Salve ragazzi e bentornati dal vostro refario e proseguiamo con The Gunk Allora vediamo un attimo, a parere mio Siamo nelle fasi finali, ma comunque staremo a vedere Mamma mia che schifo effettivamente Che schifo I peroni fungini qua Ok grazie mille Ve l'ho detto io, l'ipotesi di prima Del fatto che i sviluppatori secondo me ci vogliono aiutare in tutti i modi Qua cavolo, quanta roba abbiamo preso nel giro di due secondi Meglio così comunque Fatto sta che mancherebbe Mancherebbe Una cosa da scansionare, porca miseria Che poi se ci vogliono aiutare devono mettere anche un trasporto però Per tornare indietro O no I've come to make you release your people Bosch fight qui la sfugge a giardiniere ok simpatico eh per fortuna che riusciamo a scattare va niente scansione scusate c'ho provato io ho detto magari lo scansioniamo i giardinieri in persona in realtà no non ha funzionato là c'è qualcosa da fare comunque c'è anche una serratura qua si è una serratura che non si attiva però mi sa che quella la devo stapparla diciamo vai ah ho capito ho capito ho capito no non è vero pensavo in realtà pensavo in realtà di dover far colpire l'oggetto a lui con il raggio in realtà no non ce n'era bisogno bastava insistere un po' di più che botta rani che botta ripiglieti su eh ha fatto un bel volo ah what what happened where am i damn my mask's broken probably from tumbling through that damn pipe Bex oh please be there Bex guess this is just us now pumpkin pex damn it I hope she's okay I need to make it back to camp can't stay out here with faulty gear attrezzatore difettosa e non scatta eh nemmeno salta addirittura oi 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 niente eh vabbè come non detto andiamo avanti io presumo di andare dritto di qua anche se non è che prometta bene come scenario diriggite verso la luce splendente eh la luce splendente mi sto mandando del gank contro no sembra quasi che mi abbia guarito può saltare adesso rispetto a prima che strano lettura in corso si va bene no qua non non scatta qua sapete non salta voglio dire qua invece si salta che strano forse è una luce che guarisce infatti qua non scatta più vabbè eh ok da che parte devo andare allora di qua o di là o forse un po' a caso chi lo sa dovevo raccoglierlo forse aspirarlo ecco questa parte qua che è completamente aperta non è che mi faccia impazzire se devo essere sincero prima di aspirarlo eh no è veramente solo per curarsi ecco perché diventa verde rani per il resto boh se capisci da che parte andare sarebbe meglio luogo landa desolata ma no ma qua non mi sembra molto sensato come cosa cioè ho capito che loro volevano tipo descrivere la vastità dell'ambiente no qualcosa di sconfinato e brutto però non si capisce un cazzo di dove debba andare ragazzi cioè quello è il problema ok non vedo adesso è morta addirittura ah eh vabbè ho capito questo qua è il perk che ho attivato ok ma comunque muore ma che cazzo potevano mettere un punto luminoso come riferimento un minimo no niente niente non saprei proverai ad andare verso quella torre lì ah no verso che cosa la verde non si vedeva prima è sicuramente quello l'obiettivo dai scansionare no com'è possibile che una cosa così importante non vada scansionata comunque sono i due praticamente sono questi qua i segnali che ci indicano la via ok però potevano fargli un pelino più chiari diciamo perché da là veramente non si vedeva da là guardiamoci bene in giro in pratica vediamo se c'è dell'altro da qualche parte là di qua di qua di qua ok ma questo qua è un cumulo di gank ma con qualcosa di rosso che roba è bestie di gank e io ti prosciugo va bene perfetto perfetto no 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 ah cavolo sto morendo Non c'era mica una pozza verde qua no? Eccola qua Vai Rani vai 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 perché se no muori fa poco cavolo Quindi è anche solo camminare Ciccide in pratica Cavolo Ah beh Qua c'era una bestia Qua addirittura non va neanche su Ma stiamo scherzando Ma se non c'è niente non c'è Oh Vabbè dai Ah Delle volte c'è delle collisioni in questo gioco Che mi fanno rabbrividire Crap Eh porca miseria ma quante ce ne sono di quei cose lì No ma io non posso fare altro che abitarli questi dai Cioè Non posso scattare Non posso saltare Non posso fare altro credo Non c'è cosa che c'è Vabbè c'è loro perfetto a me verrebbe da dire di andare qua sperando di non morire prima comunque prima sono stato molto fortunato con il rino Ceronte chiamiamolo così secondo me l'ultima cosa da scansionare l'ho persa sapete ho questo sentore qua c'è solo desolazione in giro spero anch'io mi lasci la visuale libera ok grazie il cadavere non lo scansiona a quanto pare questo no neanche ah dai oh Ma... 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 non ero più forte Il gioco con il gioco rosso... ho... ho visto... ma... ma... non posso andare in Ma... ma... cavolo... ma c'era il coso lì? Il gioco... non gliel'ha dato Ah... ci fanno capire che quando un alieno muore diventa gunk, mi sà Sembrava dei particelle Raggiunge il luogo più elevato Ecco questa parte qua è molto tetra Non mi piace particolarmente Anche il fatto che comunque non possa scattare E quindi E' proprio un obbligo di andare piano In un posto in cui non c'è praticamente nulla da fare Né da vedere Insomma dai Se non altro che è un po' più lineare E' più facile andare avanti Senza sbagliare Si da un certo punto di vista è molto bello come ambiente Però non fa per me Sta andando sempre più piano eh Rani Quello è il problema E vedo la vita che se ne va Ah ok perfetto I can't I'm done I'm so sorry Bex Allora veramente l'aveva vista passare prima la navicella Era per venirci a salvare però Aveva due Partenze rimaste se non ricordo male E una l'ha usata così eh Eh Bex I I I Thought Maybe Maybe you Left We had a vote about it The result was two against one So we went looking for you Ha 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 I've been such an asshole Bex Where is us? Yeah You know You roamed that wasteland for hours tracking you All that corruption Look I am worried about bunny but You were right We can't let this place become another barren rock Hmm There's a way to stop it Actually There might be We have to return to the garden And enter the central shaft Tricky thing is I don't know if we can get back in Right It's gonna take a while to get bunny ready again And there are drones patrolling regularly You sneak on ahead Scout for a way in I'll catch up You could Sneak in with me In these shoes Roger that It's a way to To not seem to be a coder But no Look I have the crocs Ah ok We really should invest in some proper boots for you Hey If not the crocs We get the job done Ah But at what cost? Oh Hey Ronnie I'm glad we're okay again I was so worried about you Braving the wasteland alone Harry told me about how it was all covered by an endless jungle Before You would have loved it That sounds wonderful And Bex From now on We're in this together Cioè Devo scansionare Bex Bex era da scansionare fin dall'inizio Ma stiamo scherzando Ma che senso ha? No ma non ci credo E la nave Ma porca miseria Ma dai Dissolve i piccoli nemici di ganko e immobilizza quelli più grandi Un acceleratore termico più grande per il cannone impulso e fornisce un impulso di plasma più forte Wow No Mi mancano delle fibre Prolunga lo stato attivo dell'esca Un nucleo di incremento per l'esca energetica ne aumenta la velocità di scarica Ma se ho raccolto tutto dappertutto Com'è possibile che mi manchi così tanta roba? 26 fibre Ma sono tantissime cazzarola Sono tantissime Perché? 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 Cioè anche qui dentro devo scansionare le cose Harry, Kurt Cioè Tutto ciò che mi mancava praticamente Era qua alla base Incredibile Ah ok Ma è scansionato questo? Pure questo? Sovraccarico Noi lo accendiamo Giusto per Vediamo se riusciamo a Sbloccare Sovraccarico Sovraccarico Tutto lo scansionare Ma che storia ho Allora Meno 40 di metalli Che non abbiamo Brucia il dispositivo di esca Al termine del suo stato attivo Immobilizzando temporaneamente le creature di gank Nelle vicinanze Una valvola automatica Gira la protezione contro la sovrattensione dell'esca energetica Sovraccaricando l'unità centrale Sì ma quanta roba ci manca Quanta roba ci manca ragazzi Quanta roba ci manca Oh c'è una new game plus Da fare Per sbloccare tutto Perché Boh Tantissimo Tantissimo La città vecchia Mi sembra che fosse qua No Vediamo Credo Non sono sicuro In realtà In teoria Oh Questa è l'esca giusto Va bene Abbiamo preso un po' di metallo Che ci permette di prendere Quel potenziamento Uno dei due potenziamenti Che abbiamo visto due secondi fa Ok Lo prendiamo Va bene Non si sa mai Però Ho 30 di Fibra Oh Eccolo qua Vedete Ok Che fra l'altro La esca si usa con Con C tipo mi pare C Ok Ok Left shift va bene Cannone va bene E C è un possente Che mi dimentico Di tenato Tant'è che addirittura Non l'ho mai usata L'esca Eh già Vabbè Tante cose Che avrei potuto sbloccare Molto tempo fa In realtà Comunque ok Non importa Pensa te Che storie Spero di fare giusto Spero di fare giusto Ragazzi In teoria si Secondo me Miglioramenti Li ho veramente Sbloccati tutti Adesso Perché là Vedo Il prossimo Miglioramento E Lo vedo Fermo a zero Pieno Completamente Peccato Per la parte Delle fibre Che No no Ma è possibile Che debba rifare Tutta questa strada Qua Si Possibile Vuoi vedere Che Intanto qua Cosa abbiamo Ma allora C'è qualcosa di diverso Rispetto a prima Direi Oh no Eh Eh A chi lo dici Non del gioco Il gioco è bellissimo Mi piace un sacco Però sto gank qua Raccogliere Perché palle C'era un buco Che non avevo visto Va bene Dai L'avevo semplicemente Intravisto Vabbè Beh qua Immagino che purificare La zona Non abbia senso Vero No Non credo Altrimenti Ci avrebbero bloccato Lì Con qualche tipo Di barriera No Io smetterei Anche di scansionare Sapete Veramente Altrimenti Ci sarebbe Resettato Bax Il punto luminoso di prima Ricongiuncimento Digitiva del relais 1 di 3 1 di 3 Ma di fibre Nemmeno l'ombra E si che veramente mi sono impegnato Molto a cercare Vabbè Eccolo la il terzo Mi sono impegnato davvero Tanto a cercarle Eccolo Eccolo Ops E' tantino Quindi da che parte andiamo Da che parte andiamo Da che parte andiamo a Morani E' tutto scurissimo Qua cazzarola Qua no eh Proviamo a tornare giù Quindi di qua E no Assolutamente no Di qua direi Per me tutti Sapete che Qualcosa non guaglia Sicuramente di qua Allora Eh ma poi Ah qua Ecco ecco Non avevo visto quel buio Aio No Le ho già spirate prima Queste porca miseria E' bloccato Ma C'è una torretta Che mi spara Per caso Ah no C'è quello lì Ok Maledetto Però vedete Che è sparando No non è vero Non dovevo andare così Non dovevo andare così Non dovevo andare così E niente Ah Vabbè Adesso è salita Bene dai Ho trovato 200 volte prima Esagerazione Ok No non è da tirare E quindi Usciamo così Eh quanto pare si Già raccolti tutti Questi vero si Ok Però fermi tutto Però Non posso Non posso Arrivare da qui No 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 di lì direi che Non serve proprio A nulla No Allora Allora qua Toccate prima Ma non rompere le palle Aio La cosa Dall'altra parte Dall'altra parte Siamo usciti da qua A noi Sì Dal punto Della console Chiamiamola così Qua per il momento Non riusciamo ad andarci Vediamo un po' Sti così qua Laterali Ok Pibra Ah bene 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 Eh vabbè ma Ragazzi Arrivare a 30 La vedo dura Va bene dai Perfetto Perché adesso Ripulisce Lì forse Ottimo 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 Fibra Ok Io voglio solo fibra Va bene E qua E qua E qua Vediamo Perché non sono sicuro Ma può essere Che Ecco ecco Vediamo un attimo Devo sparargli In modo che Non mi cada Però Sulla piattaforma Vai In teoria Ho fatto giusto E dopo L'altro In realtà Non ho neanche visto Dove lanciarla Sapete Porca miseria Sicuramente Non in mano La Lava lanciata Ok Doh Beh ma Magari esplode Quando passa lì Chi lo sa Che culo O forse Ho fatto apposta Chi lo sa Comunque Non importa Tutto bene Ciò che finisce bene E vai con la fibra E vai con la fibra Questi qua addirittura Se non ho capito male Ragazzi Con il nuovo Li posso Spapolare Finalmente Era veramente Strano Che quel cannone lì Non li uccidesse Insomma Questo qua è organico Vero Eh 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 Parca miseria Che succede Ehi là Pussa via Ok Allora Qui abbiamo ottenuto Quello lì Volendo Che sicuramente Ci fa comodo Quante fibra abbiamo? 19 È ancora poca Non so cosa faccia Diciamo che non mi interessa Diciamo che non mi interessa È troppo distante Non arriverei mai Là Poco ma sicuro Però Ah pure questo esplode L'avevo confuso con quell'altro Va bene Allora ok Questo qua va chiaramente Vai Ottimo Però c'è ancora un pezzetto In realtà Dai 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 Vai Ce n'è ancora un po' Cavolo Non credo sia fattibile da qua Sapete Però là si Cavolo Là si Eh C'è un cumulo di macerie Da rompere Mamma mia E mo Secondo me Mi sto complicando La vita per niente Sapete Puro che non capisco Cazzarola Ah Eh ok Va bene E adesso Cosa abbiamo risolto Eh Adesso che ho ripulito Questa parte qua Cosa abbiamo risolto Non è cambiato nulla Ah No Vabbè Si ho capito Ma che giro fa Lì Ho capito Ho capito Adesso Finalmente Certo che ho capito Certo Beh insomma Non era proprio così scontato È comunque ok Eccolo Mamma mia Che fatica Wayla Però alla fine Ce l'abbiamo fatta Porca miseria Pupazza Va bene Dai Ce l'abbiamo fatta Alla fine Che fatica Questo è organico Mi sa Vero Fibra 8 Porca miseria Mi manca uno Di fibra Per prendere L'ultimo potenziamento Mi sa Prendiamoci il metallo Visto che ci siamo Ok 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 Ma non così Vabbè ok Lo pianto di là E cos'è che ottengo Ottengo che vado a prendere La fibra di sopra Ma non mi si sblocca mica La trama Tra virgolette Ma che cazzarola Impossibile Mi faccio un appunto Per tagliare La parte Dove ho gironzalato Per niente No la fibra Mi sa chi è qua Allora Eccola qua Ah no Organica Questo Va bene Dai Ok Sì ma io vorrei Un checkpoint Tipo No Possibile avere Un checkpoint Per cartesia Un Cosa No 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 Ho sbagliato Qualcosa Dovevo andare Lì sopra A ripulire Ho sbagliato Qualcosa Sicuramente C'era da ripulire Dell'altro Eh Adesso va bene Ok E ci spiace Chiamo No quasi Dattemi un teletrasporto Per cortesia No No Questa parte Fatemi iniziata col culo Beh dai Un alieno piccolo Potrebbe andare Molto peggio Dai Niente Questa parte qua Dall'ascensore Non ne vuole sapere Di andare bene Perché non si sa Comunque guardiamo giù Per terra No no Niente Niente È proprio fatta male Sto parte Già Piccola deviazione Direi Va No Ma perché si era Incastrata Lì Sapete No Ok E porcaccia La miseria Vabbè Ok Così ci sta Ci devono mettere Un trasporto Altrimenti Tutte cose qua De raccogliere Cosa ce ne mettono a fare Per sport Per divertimento No Eh Porca miseria Eh no Cresci Che poi in realtà Vabbè Bastava Arrampicarsi bene Là E invece Ho scelto il percorso Più lungo E Sono anche sciocco In realtà Perché mi sa che Devo comunque Farlo girare Ok Così Perfetto Eh sì Eh sì Perché Se assorbo Questa cosa Mentre sono sospeso In un po' Di gank E sotto Non c'è nulla Mi spiaccico dopo Ok Perfetto E queste qua Sono le famose Piattaforme Che vi dicevo La scorsa puntata Che vedevi in giro E che non utilizzavamo Lì al momento Ecco spiegato L'arcano mistero Ormai è un classico Oh shit Zitto Bastardo Dammi la tua vita Eh fa male L'impulso Bene E adesso Ui lì alà Mi fermo Ma Vedete allora che Quella bestia lì Da un sacco di alieno Mentre quelli Nelle lande desolate Non davano nulla Proprio perché Erano scriptati Secondo me Se anche fosse andato vicino A uno di quelli Secondo me Non saremmo morti Infatti Per quello che rimaneva Completamente fermo Quella la Mentre lo prosciugavo Eh Erano lì come Per spaventarci In realtà Ma Andandoci vicino Non avrebbero fatto nulla Secondo me Comunque Qua Lì qua C'è niente da raccogliere qua Che spreca Ok Game on I don't need to I don't need to Perfetto Sarebbe veramente Il colmo Se ci dessero Tutte queste risorse qua E non ci dessero Il modo per spenderle Ma va Piattaforma lunare Però vedete che Non c'è più Il progresso Miglioramento Se io faccio qua Ragazzi Enciclopedia Che ci sia tutto Secondo voi Boh Chi lo sa Vabbè Allora Vediamo un po' Cosa fa questo Ah ok Così Eh Vabbè Ok Mi sono sblocchato Una scroccatoria Ma Ma A cosa servite Sta roba qua Ah no Ok Questa è Ecco Ecco Bom Paglia colpisci Non so dove si sia attaccata Però speriamo bene Perfetto Sperando Sperando sia giusto La lingua lì Il fungo qua Giusto 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 Questo qua Mi serve Secondo voi Mi serve da qualche parte Questo Oh porca miseria Mi sa di sì Ma non sono sicuro No forse è di là Se me l'hanno dato Ci deve essere un motivo Credo Vediamo Penso vada Piantato Qua Eccolo 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 Perfetto 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 Eh vabbè dai Esagerata E adesso praticamente ripuliamo Dallo Da sopra Prepariamoci un altro po' di Caro di frame Beh Classico Classico Dovrebo darmi un premio Per giocare A tre FPS Ui là là Aio C'era anche Un obiettivo Ragazzi Di far scontrare Due Rinoceronti Onestamente Non ne ho mai trovati Due assieme Per cui Boh Non so come sia fattibile Sta cosa Non lo so Magari ne Mettono un altro Adesso Chi lo sa Non mi pare Comunque Ok Ok Poi è tutto libero Direi Avanti Avanti La cupola del Geist Posso salvare Ma che E se me ne vado indietro Posso salvare Vorrei creare un punto di Ripristino Io più che altro Niente da fare Nuovo salvataggio Ok Boh Così nel caso Voglio tornare indietro Eh Lo facciamo Però sapete cosa vi dico Secondo me qua Manca ancora un pochino Perché a questo punto Vi dico Che facciamo Un'altra puntata Grazie a tutti Per la compagnia Come al solito I vari social TikTok compreso Che trovate in descrizione E alla prossima Grazie a tutti